Ed eccolo qua allora, questo nostro grande, grandissimo campione che saluto e che ringrazio per essere con noi. Michael Schumacher o Schumi, come ti devo chiamare? No, Schumi is fine. Schumi va benissimo. Perfetto, a noi piace molto Schumi. Senti Schumi, noi siamo qua la domenica pomeriggio con gli italiani e noi ogni 15 giorni sappiamo come trascorri la tua domenica. Ma la domenica quando non corri, cosa fa Schumi? Io sono felicemente sposato, mia moglie, i miei figli, trascorriamo insieme il tempo e facciamo delle passeggiate, giochiamo, andiamo a nuoto e cerchiamo di divertirci. Perché io credo che questo sia il modo migliore per dare un'educazione ai propri figli, cioè dargli divertimento e farli essere dei bambini felici. Per anni noi abbiamo avuto l'immagine di un campione un po' freddo, di un personaggio talvolta anche un po' schivo, un po' riservato. Recentemente ti vediamo anche molto allegro, solare, scherzare e anche, come è successo domenica scorsa, triste e piangere. Un uomo a 360 gradi. È cambiato qualcosa in questi anni? Non proprio, onestamente bisogna dire che la difficoltà è che ci sono tante persone che mi vedono dall'esterno senza conoscermi bene. Ci vuole molto tempo, ritengo, per conoscere bene una persona. Non si può giudicare dalla televisione se una persona si è fredda o altro. E poi, per correggerti, non piangevo per la tristezza, piangevo di felicità. Ah, ecco, raccontaci un po' quel momento lì, sette giorni fa. Ma naturalmente ero felicissimo vedere tutta quella gente che festeggiava insieme a me. E se guardavi in faccia a quelle persone, ti rendevi conto che c'era un'emozione sbalorditiva, c'era una forte emozione in quelle persone. E mentre mi trovavo lassù, io ho preso dentro di me tutte queste emozioni. E poi, improvvisamente, mi è stato ricordato Ayrton Senna. Tutto insieme, durante la corsa avevo avuto anche delle difficoltà, e le difficoltà delle ultime due settimane sono stato troppo per me. E quindi ho avuto questa reazione, quei momenti. Eh, perché non ci dobbiamo dimenticare che, prima di tutto, anche questi grandi campioni sono degli uomini e non dei robot, delle macchine, appunto, no? È strano che soltanto adesso parliamo di questo, perché io credo di essere stato un essere umano anche prima di questo. Ma naturalmente c'è sempre bisogno di prove per credere a questo. E non è una cosa che mi fa troppo felice, devo dire. Perché io non è che sia cambiato, io sono la stessa persona che sono sempre stato. Giustamente, è quello che dicevi prima, delle volte quello che vediamo in giornale e televisioni filtrano e non fanno arrivare quello che in realtà uno è. È verissimo, sì, è proprio così. Senti, ma tu l'italiano proprio non lo sai parlare? O qualche parola la conosci? No, non solo qualche parola. Proviamo, dai, allora. Immagino che quando sei arrivato in Italia, tra le prime cose che hai imparato sono le parolacce. Ma lasciamo perdere queste. Parliamo di pizza, ma non soltanto pizza, amore e spaghetti, no? No, no, so qualcosa di più. C'è un altro messaggio che vorrei trasmettere a tutti i miei tifosi. Voglio combattere per questa stagione perché è una grande occasione per noi vincere il campionato. Ma aspetta dopo perché tre importanti gari per noi in prossimo mese. Ecco, parliamo proprio del prossimo appuntamento, Shumi. Due punti di distanza e un circuito come lo vedi questa prossima gara. Entriamo nello specifico sportivo. Ma io penso che la situazione sia apertissima, come ho cercato di spiegare nel mio italiano, che naturalmente non è perfetto ed è difficile da capire. L'abbiamo capito. Comunque avremo nelle ultime tre gare un'ottima opportunità per conquistare il titolo. Per l'Italia, naturalmente. Ma non c'è nulla in particolare che io possa dire. Non c'è un circuito in particolare che sia a favore o contro di noi. Tutto dipende naturalmente dalla gara e dal risultato che avremo in queste tre corse. Tutto si vedrà alla fine, insieme. Shumi, qual è? C'è qualcosa di Ackinen che ti piacerebbe avere e viceversa c'è qualche qualità di Schumacher che Ackinen non ha? Beh, mettiamola così. Secondo me noi siamo due piloti che non sono troppo male, naturalmente. Abbiamo molto rispetto reciproco. E negli ultimi anni in cui abbiamo combattuto l'uno con l'altro non ci sono mai state parole forti, grossi litigi o situazioni negative tra di noi. Noi abbiamo lottato molto duro, ma c'è una grossa intesa tra di noi ed è una cosa molto interessante. Questo naturalmente fa del bene per il campionato. Io spero che alla fine riuscirò a portare questo campionato del mondo all'Italia. Soprattutto perché penso che gli appartenga dopo tutto quello che è successo in questi 21 anni. Beh, noi ti ringraziamo molto e ti auguriamo un grande in bocca al lupo. Senti, Schumi, sei scaramantico, hai qualche portafortuna? Crociamo le dite. Ok, allora guarda, le incrocio anch'io e tutti noi qua da domenica in e ti auguriamo un grandissimo in bocca al lupo a questo grande campione che è il nostro Schumi. Ciao Schumi. Grazie. Ecco i guardi, entriamo. Grazie.